ciao a tutti ragazzi siamo stati CosiDimmi e siamo in questo nuovo video su Crash Royale allora andiamo carica, carica, non devo fare così, devo fare così allora ragazzi, ho visto che non va, come si chiama, non va, come si chiama, non va Crash Royale, andiamo su Slayer.io ok, devo stare molto attenti, sono piccoli errori di labbro che sto accontentando, guardate quindi se sbaglio non è copia niente il mio record è stato 8000 qualcosa, non ho ricordo allora vai vai porca vacca porca miseria ho ma non so il video comunque voleva fare 3-4-5 minuti, quindi qualche problema, ok ragazzi allora ehm no, ok scusate scusate se mi sembra non guardo la webcam ok vai, prima ci sono è bello che manco lo sapevo che l'ho ucciso, però guarda mica l'ho ucciso io e l'apre me l'ho fatto uccidere comunque l'ho ucciso io quindi allora andiamo così andiamo così va la, va la, va di qua, va di qua dove sta ehm blip di merda allora c'è ancora una mod uuuuuh cosa c'era tanta roba mamma mia che orca miseria mamma mia cosa io preferisco per la scioglietta vediamo un po' se mi fa entrare dai ci vediamo un secondo ok ragazzi adesso va per la scioglietta posso un po' come se non si capisce niente allora facciamo così facciamo così andiamo qua niente si è interessante ok allora andiamo qua pleno andiamo invece abbiamo fatto un po' di partita ah qua doniamo un po' vediamo qua oh vediamo qua ok ok facciamo così che poi qua gli obiettivi negativi non molto però qua invece che chiediamo almeno ecco dai un po' di maggio i video li ha sei minuti ok ragazzi qualcosa ancora ancora scusate ragazzi un attimo eh ok abbiamo usato un bel omaggio è proprio un po' di maggio speriamo di trovare almeno qualcosa qua allora rara non asce la comune mettiamo ma in merito ma in merito ma in merito andiamo a fare la partita dai ok una partita basta nessun problema nessun problema ok ragazzi ok ragazzi allora lo stiamo cavando molto bene mettiamo il draghetto qui in modo che in modo che i cobblin muoiono subito e secondo me con la torre laggiù è andata allora vai ok ok possiamo attaccare ora mi ha trovato un mini beccato vedete no 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 e te vedi la che vedi e non c'è e non c'è e non c'è ah grazie ora mi ha trovato un bel muschettiere qua allora allora no no torre è andata ok adesso tutto 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 il mondo tutto il mondo, tutto il mondo deve essere arrivato, vai, 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 moschetevi, vanno tutto il tuo nome. Sierre, ops, però... Ragazzi, ci stiamo difendendo bene, perché l'esplodio del giocante adesso è sciotto il resto, guardate. Dovevi esplodere dopo, mannaggia. Vai, il cucciolo di drago, vai, no? Metti, no, mannaggia la connessione. Ok, e ragazzi, abbiamo vinto questa partita. Ah, abbiamo pure paure della vera, ok. Facciamo... Rara? Ed eccolo! Ma come non lo è? Vabbè ragazzi, iscriviti al canale, lasciate un mi piace, lasciate anche un commento e iscriviti al canale. Ciao!